E tu? Canta bene quel signore, eh? Che meravigliosa. Non ti e potrei cercarmi un'altra donna, ma mi ingannerei. Tu con un'unica donna? Boh. No. Mi occuperò anche delle mie figlie. Belle di papà. Di Boris il cane, della casa. Pensa che palle. Pensa che palle. A proposito. Tieni, questo è il mio regalo di Natale. Allora stai a far sul serio. La mitica argentina dell'avvocato Covelli. La guida Michelin della gnocca. Dentro c'è tutto. Nomi, misure e specialità della casa. Adesso è tua, tanto a me. Non serve più. Oh, io sto a partire per Londra. C'è sta pure la sezione esteri. Sì. Alla fine, guarda bene. Vicino all'asterisco. Bucione United Kingdom. È prima dose in va quest'anno. Mia moglie. Eccolo qua. Regno Unito. Jennifer, Kate. Melody. Ma già, ma che è una giappetta cavalla sudata. Particolare, ma molto piacevole. Dimmi, tesoro. Va bene, comunque l'importante è che siamo arrivati, che stiamo bene, che abbiamo i bagagli, che adesso tu vai sul pullman. Come vado sul pullman? Ok, tu dove vai? Arruai. 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 Arruai, arruai. E vado sull'altro pullman. Ok, sei un altro pullman. Ehi! Io voglio stare con te. Non è possibile, perché qui i posti li danno solo in ordine alfabetico. Ma che cazzo guarda? Sì? Ti ho portato gli asciugamani. Ah, grazie. Senti, Stella, mi ha detto che avete parlato parecchio sulla spiaggia. Che cosa ti ha raccontato? Fanno niente, sciocchissi da adolescenti. No, è che io sono la madre e a me naturalmente non racconta mai nulla. E ti credo, non so cosa sa. Ma lo dico, a volte è meglio non sapere. È un'età senz'altro difficile, sono tanto strani. È molto, lo vedo, lo sento. Ah, Giorgio, sono veramente preoccupata. A che io dici? No, perché tu, tu la vedi come una bella donna ormai. Ma rispetto alle ragazze della sua età, Stella è un po' timida, chiusa. Ah, chiusa. Sai, è tanto indietro, soprattutto con i ragazzi. Ah, tu dici, è meno male che è indietro. Insomma, sai cosa le manca a quella ragazza? No. Un po' di malizia. Ah, la malizia. Eh, beh, quando manca la malizia, so cazzi. Giorgio, tu che ormai sei in confidenza, perché non ci parli? Le potresti dare... No, io non le do niente, non le darò mai niente. Ma che fai? Qui è pieno di zanzare. Ah, ma per forza, se non chiudi la finestra, ti mangeranno vivo. Permette? Marchese Aliprando Pelillo della Fregna. Ah, sì, della Fregna. Come Fregna de Begora. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Viva. Ma lei di bello che ci fa qui a Los Angeles? Che ci faccio di bello qui a Los Angeles? Transito. Transito. Sì, io torno in Angola? Sì, io torno in Angola? Eh? È certo che torno in Angola. È da quei poveretti. In missione. Angola. Ah. Così bravi, andate alla toilette. Ma sei sicuro che il mio figlio? C'è una faccia da cazzo. Come a tua. Che ti sei messo in testa, eh? Ho appena rivisto il mio figlio. E farmi stare almeno 48 ore vicino al... Come si chiama? Il bambino. Nonostante tutto, è un cuore di padre che ti parla. Ma vaffanculo. Tanto sei materiale. Sei proprio rimasta una burina di piano, figlia mia. Lele non deve sapere niente. Mi raccomando, eh? Sarò un muto. Come un morto. Vai a chiamare Matteo. Sì. Che è pronto. Dov'è? In camera sua? Sì, forse. Ah. Sì, abbiamo anche un figlio, Matteo. Oddio, non è proprio mio figlio, è del primo marito di Serena, ma dopo tanti anni gli voglio bene come se fosse mio. Con lui ho un bel rapporto cameratesco. Ma che te stai a fare? Hai vinto su internet? Ma no, sto giocando a pici calcio. Che è? Pronto? Pici calcio? Ma ci sei andato su quel sito che ti ho dato? www.bellechiappe.org Ma cito, porno. Porno. E ma pure beccato la mamma. Ma pure la mamma? Ma sono cose naturali. Ma mettili in moto sto motore. C'è un esercito dormone in panchina. Te chiami pure Trivellone. Te devi svegliare. Te devi svegliare. Le ragazzine non aspettano altro. Ma come se fai a essere ancora virgine con quel gatto che c'ha in mezzo alle gambe? Ti ho visto su Tato, c'è? Una cosa mostruosa. C'hai pagina e c'è la rotolata. Ma che mi guardi mentre mi faccio la doccia? Bello bisellone di papà. Mamma, ma anche pronto. È chiuso qua, un piscicaccio. Ma di che hai preso sto bisellone? Eh? Le cucine le mamma, quindi sono sardi. Questa è la segretaria telefonica di Madda Venn. Non sono in casa. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Madda, amore, ti prego, rispondimi. È un'ora che cerco di parlarti. Guarda che se mi lasci io mi ammazzo. Presto! Presto, dobbiamo correre da mio fratello. Dice che si ammazza. È stato mollato da Margherita. Figura che se uno si ammazza perché è stato lasciato. Sono cazzate che si dicono. No, quello si suicida veramente, dai. Ma adesso che sto il telefono. Rettore Magnifico, ci sentiamo più tardi. Tante care cose a lei e a famiglia. Paola! Mi scusi, abbiamo un problemino da risolvere. Sorry. Don't worry. Lei dovrebbe essere così gentile da accostare il battello perché io e mia moglie scendiamo. Attracchi, attracchi. Fabio, io ho perso. È impossibile, signore, non ci sono attracchi. Deve avere pazienza fino a domani mattina. Arriveriamo ad Abu Simbel e lì potrà scendere. Abu Simbel, domani mattina. Ma io che faccio fino a domani mattina, scusi? Ma intanto questa sera può partecipare alla nostra festa egizia. Che festa? Egizia. Egizia. Una cafonata? Sì! Una cafonata! Che fai? Dov'è? Ti sfidi? Niente da fare, è chiamata persa. No, chiamata persa. Era mio figlio. Vabbè, richiamerà. Richiamerà. No! Come si fa? Non vedi che ti perdi tutta sta roba? Scusa. Senta, professore. Eh, di sopra c'è sua moglie. Mia moglie. Ma che dice? Ma che mia moglie? Ma mia moglie sta a San Pietroburgo. Su! No, le ha mentito. È qui in Brasile. In Brasile? Le ditte. Le ditte. E devo dire, è un'operazione riuscitissima, eh? Sode, piacevole al patto, con una perfetta capezzolo turgido. No, no, scusi un po', che cosa sa lei del capezzolo turgido di mia moglie? Mi vieni? Che ne so, che ne so, che ne so. Senta, professore, è successa una cosa incresciosa che spero non rovini la nostra amicizia. Vabbè, amicizia. Ci tengo a dirglielo io prima che lo venga a sapere magari da qualcun altro in maniera brutale. Ma che cosa? Stamotte, inavvertitamente, mi sono ingroppato su moglie, eh? Capita, 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 capita. E allora? Scusi? Ma lei è Lillo Ferri? Sì. Ci conosciamo? Ci conosciamo. Lei ha lavorato tantissimi anni con mio padre. Ma che sei figlio di Lollo? Sì. E tu come ti chiami? Lello. Mazza che fantasia. E come sta Lollo, eh, papà? Non si è saputo di ciò niente. Se ne è scappato una ballerina di Lappadense. E non si è fatto più vivo? Solo una volta a casa, invece di una cartolina, ci è arrivato un perizoma. E quello è sempre stato fissato che i mignotti. Mi ricordo che ai tempi nostri stava in fissa con una certa Ines, un bal dracone, ce la siamo trombata in duemila. Mamma! Hai la mamma. E come sta, come sta? È morta di parto. Che cazzo, mazza che sfiga. Comunque, a nome dell'antica amicizia che mi dica tuo padre, anche la povera mamma, qualsiasi cosa hai bisogno. Ecco, intanto, te, compra dei due cheeseburger che ti vede maciato, eh. Permette? Piacere, berni. Non mi prenda per un pappagallo. Ho visto una bella ragazza, posso offrirle qualcosa? Non fallo italiano. Scusi, non ho capito. Non fallo italiano. Ah, non fallo italiano. Solo cazzi locali. Obrigato, è curioso. Pronto? Pronto, signor Zanchi? Sì. E qui in centralino c'è una chiamata della signora Margherita. L'accetta? 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 Sì. Ha detto no? L'ho detto sì. La metti in linea? Sì. Amore? Ma che canumpiccia. Margherita! Qual è la situazione? Margherita! Andata! Ti sei fidanzato? Ma non sapevo nulla! Gianna, è una notizia meravigliosa, non vedo l'ora di conoscerla. E dov'è? Dov'è? Ecco, guarda, è laggiù. Quella? Sì. È bellissima. Ma? E visto che stai da dieta, questi mi mangio io. Alberto! Alberto! Fabio, dove vai? Alberto, ma non sei cambiato affatto! Ma che stai a dire? Ma qual è Alberto? Ma io sono tu bello, scherale! Hai sempre voglia di scherzare? Ma che sei? Ma che te sei fumata? La prego, non si volti, ostenti indifferenza, mi assecundi. Che devo fa'? Cammino a po' te spiego. Solo dici te. E tuo padre dov'è? Non so che dire, era qui un momento fa. Ha trovato un amico. Grazie. Lei è stato molto gentile. Se incontro quella ragazza in presenza di mia moglie... Ho capito, è una storia di corna, un incrocio tra cervi. Ma come si permette? Ma che so ste confidenze? Ma io manco la conosco. Ma vedi la nata di sto burino. Ma sai che ti dico? Ma fammi ammazzare te, qua conduta tu voglia e quei quattro soccoli che ti porti appresso. Ha delicato! A testa di cazzo! Bella educazione. Mazze, è schifo. Ma che c'è? Non scureggiano dentro? Ma come hanno fatto a derogarla? Eh, come hanno fatto? Eh, come hanno fatto? Dico, la dinamica. La dinamica? E come hanno fatto? Ma chi gli frega dalla dinamica? Ma pensa in quei poveri lebrosi in Angola che aspettavano quei pochi soldi. Beh, se sono pochi soldi io posso... Poi nel senso che non bastano mai. Arribrando è un modo di dire. Ah, sì, sì, sì. A quanto assumerebbe la cifra? Ua, le faccia a lei, adesso non stiamo qua. Ma come faccia a lei, scusi? Quanto le hanno sottratto? Vogliamo fare... Che? Cinque mila euro. Che ne so, io scusi, a lei che hanno rubato i soldi mica a me. Beh, su, fanno quattro e cinque e non se ne vanno più, va bene? Beh, insomma, sempre una bella cifretta. Però, oddio, se si tratta di aiutare lebrosi... Cechi, lebrosi cechi. Pure. E che è questo angolano stretto? Mentre che è un'esclamazione. Ah, beh, facciamo cinque mila. Quarchese della fregna. Della fregna! Mi scusi. Grazie per l'offerta e per i vestiti. Ma si figuri, guardi, per me è un onore aiutare un sant'uomo come lei. Ma che santo è santo. Ma i veri santi sono lassù, in cielo. Oddio! Oddio! Che è? È quello, il viso. È quello, è un trattuaggio. Non è un trattuaggio. E lo che cos'è? È una voglia. Ma una voglia di... Figa. Che c'è di male? C'è chi ce l'ha di fragola e chi ce l'ha di fregna. Lei ce l'ha nel cognome, io ce l'ho nella sella. Giusto? Riposo! E lei è tappeziere? Sì, ma da poco sa come prima c'è stato qualche problemuscio. Ah. Di che tipo? Mi facevo come un cammello marocchino! Uai! Sono stato 15 anni rovinato! Ma mamma mia, ma sono tutti così tappeziere a Roma? Ma dipende. Poi lo zio Giorgio mi ha dato la possibilità di entrare nel mondo del lavoro, no? A chi c'è il cipolla è uscito dal tunnel. Non me faccio più! A me è una bella notizia. Allora ti posso chiedere una cosa da uomo a uomo? Ma se a uno gli piace una, che sta con uno più grande di lei, più ricco e più bello, ma che deve fare? E se la deve piare nel culo, tesoro. Ok. Mi scusi, gentilmente potrebbe lei seguirmi l'evolversi della situazione? Io preferirei così per valere l'incorso. L'esame? Sì, l'esame. Senti papà, ci sono problemi se ci sganciamo? Come sarebbe? Beh, vedi, ho conosciuto una poco fa in albergo e ci siamo dati un mezzo appuntamento. E a che ora ve lo siete dati? Praticamente adesso. Bello, mi sei l'ora di papà, ma che problemi, figurati, anzi se fa così, bravo. E dimmi un po', è olandese? No, è italiana. Meglio, l'italiana in vacanza sono le più troie. Ma dai, è una ragazzina. La retta a mente. Come la vedi, partica la mano, eh? Ti strusci un po', il movimento d'acca al vicino gli fai sentire la seguoia, quella se sturba e te sacca la calzi. Che c'è da guardare? E a proposito, ce l'hai preso? Riesce mai di dirlo? I presi profilattici? Veramente no. E allora che c'è sta fa papà? Eccoli qua! O sai come si chiamavano all'epoca mia? Il guanto di Parifia. Bella gafonata. Speriamo che ti entrano, con quella torre del po' bello che si ritrova. Vai, 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 non fa aspettare a mignotterla. So ragazzi, ci vediamo in albergo. Senti, a Dragon Ball. Ma che mi hai dato? E' il sushi. La triciana qui. Eeeh, ciao. Soltanto sushi, sushi. Ma tu mi sei, la checia? Ma rifatti i denti. E' il sushi. Ma che bello averti qua. Senti, tesoro, quanto ti fermerai, eh? 15 giorni. 15. Benissimo. Ha proprio tutto il... E che ti piacerebbe fare in questo lungo periodo? Perché obiettivamente è molto... Ma quante cazzo le vacanze vedanno a sta' accademia? Ecco, a proposito di quello che mi piacerebbe fare, noi pensavamo se per qualche giorno a te non dispiacerebbe restare solo. Vai avanti a papassa che gli puoi chiedere qualsiasi cosa. Ecco, noi avremmo organizzato un viaggetto a Madrid per visitare il Prado. Un viaggetto tu, Marco e Prado? E me lo dici adesso? Ma non me lo vedevi di cinque minuti fa. E quando volete partire? E domani ci abbiamo un biglietto last minute. Last minute? Scusate? Storò un piccolore in Parigi, da parte. Sarà la rottura del cazzo. Ma che sta droga, tuo padre? Lei mi sta dicendo che i nostri ragazzi andrebbero in vacanza a Madrid da soli. Mi consegue il fatto che io per tutto il periodo rimarrei inaspettatamente del figliol mio Orbato. Orbato. Hai vista che... che lentamente... Abbandonato, lasciato solo. Solo, lasciato solo. E lei è consenziente? Faccio male? Eh, non è, non è. Non è una decisione facile. Ma come? Come si fa ad attarpare le ali? Come si fa a impedire che il frutto cada dall'albero? Come? Proverso, questi giornalieri domani. Eh, sì o no? Non è che ci stavi. E sia! Affrancatevi! Hai visto? Ma non si capisce quando parla. Ma mica è così strusso come... In senso affettuoso, Patanemi. Non mi creda. Grazie, papà. Allora, noi confermiamo la prenotazione? Eh, perché? Andiamo fuori. E qua il wifi non prende? La Spagna, Goia, Velasquez, il greco... Raul, Casiglia, Spuciolo. Camminiere! Eccomi qua! E dov'è? Dov'è la fortunata? L'hanno chiamata al telefono. Fabio, chi era quello che hai salutato prima? Ah, un collega. L'avvocato Alberto Saccalide, un principe del foro. Uno slovone raffinato, ma di grande livello culturale. A stronzon, dove stai? A maniaco! Se te veda non carci al culo che per i dammi la scarpa, te devi da purgà! Poi, disgraziatamente, una terribile malattia l'ha ridotto così. Ma di che si occupa la tua fidanzata? Dimmi, che fa?